Ciao, sono Salvatore Adeo e sono un Mixing Mastering Engineer professionista e ho appena finito di registrare questo videocorso su come dare punch e solidità attraverso la saturazione e i trattamenti paralleli. In questo corso ti guiderò passo dopo passo attraverso le tecniche di saturazione e trattamenti paralleli che ho perfezionato durante tutti i miei anni di carriera. Grazie a tutti.